quello lì quello one shot one edge shot quello lì no quello sotto oh proprio niente ciao let's 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 come si fa a a come si fa a camminare e a a a a a come si fa a camminare come si fa a camminare eppure non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio allora come si fa a camminare eppure non ce la faccio allora dai seni a come si fa a camminare eppure voltare lo schermo con il mouse a me non lo fa come si fa a camminare eppure voltare lo schermo ma cazzo giratelo con le mani lo schermo no non il mirino lo schermo a me non lo fa ma che da dove escono questi no 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 no